Convalida degli eletti questa mattina nella sede comunale di Villa Gioia dopo le elezioni provinciali di sabato che hanno riconfermato presidente Angelo Caruso, sindaco di Castelli Sangro, che ha battuto lo sfidante Vincenzo Giovagnolio, sindaco di Tagliacozzo. Con sette eletti su undici, tra cui Caruso, il centrodestra esce benissimo da questa tornata elettorale e si ripresenta con fiducia anche ai prossimi appuntamenti amministrativi all'Aquila in primavera e regionali del 2024. Fratelli d'Italia conquista da solo presidente e due consiglieri. Il nuovo consiglio provinciale vedrà in maggioranza Caruso, Vincenzo Calvisi, Noia Cutone, Nunzio Tarantelli, Gianluca Alfonsi, Gabriella Sette e Maurizio Proietti. Eletti con Giovagnolio, Antonella Lagatta, Fabio Camilli, Carmine Silvagni e Walter Chiappini. In consiglio non entra Giovagnolio, la legge non lo prevede. Un risultato apprezzabile a punto di vista numerico, politico e se mi consentite anche personale. Perché è stata quella azione messa in campo con una strategia politica ma anche territoriale. Abbiamo coperto ogni angolo della provincia dell'Aquila con candidature qualificate e adeguate rispetto allo standard che la provincia merita. Soprattutto questa nuova provincia che vogliamo rilanciare sul piano istituzionale e quindi insomma grande soddisfazione. Da dove proseguiamo? Perché sostanzialmente abbiamo già in campo atti di programmazione, strategie già messe in campo e soprattutto misure che da qui a qualche giorno continueranno la loro azione. Spiegheranno effetti su tutta la rete provinciale della viabilità della cosiddetta edilizia scolastica. Soprattutto in questa città che non può perdere altro tempo. Ma intanto credo sia smentita dai fatti, dai numeri, da quella che è stata la risposta di un territorio che sebbene attratto o quando meno sollecitato sul piano della territorialità non ha risposto a questi appelli. Ma non per tradire un rapporto territoriale o campanilistico se vogliamo perché si è affidato a principi un po' più solidi, soprattutto della coesione del territorio di cui ha bisogno questa provincia ma non di divisioni come si voleva in qualche modo declinare la sua candidatura. Il sindaco di Tagliacozzo nel commentare risultato ha parlato di tradimento politica e di un'occasione persa mentre qualcuno ha fatto prevalere ripicchi e aspetti personalistici. Il sindaco ritiene comunque il consenso ottenuto buono essendo una candidatura nuova e ha ringraziato Gianni Di Pangrazio ma si è pure complimentato con Caruso che ha definito una persona molto preparata. Le reazioni sono state tante, anche quella del sindaco dell'Aquila, segretario provinciale di Fratelli d'Italia Pierluigi Biondi che ha lanciato strali contro gli avversari e contro il PD che per lui esce con le ossa rotte. A nulla sono valsi insomma detto e richiami all'appartenenza territoriale, la provincia ha un corpo solo che deve marciare unito.